Tissot T-Touch, un capolavoro di stile e funzionalità. L'orologio da polso T-Touch si distingue come un'icona di innovazione tecnologica nel mondo dell'orologeria. La sua caratteristica più distintiva è la tecnologia touchscreen integrata nel quadrante, consentendo agli utenti di interagire con l'orologio attraverso tocchi sul vetro. Tra le sue caratteristiche spiccano altimetro, barometro, bussola, termometro, cronografo e sveglia. Oltre alle sue funzionalità tecniche avanzate, il Tissot T-Touch brilla anche per il suo design elegante. La cassa in titanio, disponibile in diverse finiture come acciaio lucido, acciaio nero e acciaio dorato, si adatta a diversi gusti e stili. La lunetta in ceramica e il cinturino in pelle, acciaio o gomma contribuiscono a conferire un tocco di classe. Il quadrante digitale è facilmente leggibile in tutte le condizioni e include un'illuminazione notturna per garantire la visibilità in situazioni di scarsa luminosità. Indossare un T-Touch significa avere il controllo di numerose funzioni direttamente al polso. Il cronografo e la sveglia aggiungono ulteriori livelli di utilità e funzionalità. Il marchio Tissot ha recentemente introdotto il T-Touch Connect Solar, un capolavoro che combina l'eleganza tradizionale con le funzionalità moderne. Una delle caratteristiche più sorprendenti del T-Touch Connect Solar è la sua ricarica attraverso la luce solare. Questo approccio, green, lo distingue dai tradizionali smartwatch che richiedono ricariche frequenti. Piccole celle solari posizionate sotto il quadrante immagazzinano la luce solare in un accumulatore, consentendo all'orologio di funzionare principalmente grazie all'energia solare. La connessione del T-Touch Connect Solar allo smartphone è intuitiva e si completa tramite un'app dedicata disponibile per iOS, Android e Huawei Harmony OS. All'interno dell'app, gli utenti possono accedere a tutte le impostazioni dell'orologio, controllare i passi e le calorie, impostare sveglie e gestire un secondo fuso orario. Le notifiche per chiamate, messaggi e mail sono integrate, offrendo un livello aggiuntivo di connettività. Grazie.